segui la sette anche su instagram la 7 ovunque con te perché dice cade un'altra bufala della destra sono arrivate le prime 800 mila mascherine siamo nell'undici aprile attenti l'undici aprile le mascherine doveva arrivare nei primi 4 5 giorni e si era trattato credo mondina marzo doveva arrivare sì quindi siamo in ritardo però iniziano arrivare angelili arrivano avete detto una bufala secondo loro assolutamente no era tutto vero quello che dicevamo noi ormai certificato anche dalla corte dei conti però loro ci accusarono di fake news che eravamo vergognosi che dice anche che la polizza assicurativa sulla caparra quindi dice noi siamo tranquilli c'è una polizza assicurativa ma innanzitutto la polizza è venuta in un secondo tempo all'inizio non si parlava di polizze le polizze non sono state proprio richieste però in quel momento mi scusi per andare al sodo delle questioni lui dice va bene arriva ritardo per arrivano siete i soliti raccontate le solite valangate di stupidaggini e però c'è qualcosa che non torna danilo perché a un certo punto è la stessa regione lazio tra il 29 marzo e il 2 aprile visto che non arrivavano a diffidare l'ecotec cioè la società del signor mondin è così danilo l'atteggiamento della regione lazio noi dobbiamo dire la verità l'atteggiamento della regione lazio è singolare nel senso che prima interrompe i contratti con mondin e dice io non voglio avere più niente a che fare con te pochi giorni dopo il 10 aprile cambia tutto e dice no facciamo di nuovo il contratto però mi produci una polizza fidei ussoria che cos'è è un'assicurazione antitruffa cioè se tu non mi porti le mascherine la polizza assicurativa dice il problema è che la prima polizza tenetevi forte aspetta tenetevi forte la regione ma che volete arrivano stanno arrivando è vero in ritardo ma c'è anche la polizza quindi noi siamo assicurati se non paga se non arriva materiale c'è la polizza tenetevi forte prego c'è la prima bozza di polizza che è falsa che infatti viene di fatto accartocciata e buttata via ma non se ne accorge la regione se ne accorge per l'altro l'avvocato quadri insomma era falsa la seconda polizza che arriva e che viene tra l'altro anche pagata e che per la regione è buona in realtà buona non è nel senso che la società che deve dare i soldi che deve ridare che avrebbe dovuto ridare i soldi indietro non è abilitata ad operare in italia e quindi non tira fuori i soldi la proiezione civile dice noi abbiamo fatto un decreto ingiuntivo anche un anno e mezzo fa a me tu lumello disse noi riavremo questi soldi perché la società è piena di milioni di sterline ad oggi i soldi non sono arrivati attenzione per esserci